Buonasera, Corinna manda a dire che il portafoglio sull'Italia sta andando bene, manda a dire di aggiungere dei longhi fino ad un prezzo di 4,784, stop loss 4,592, take profit 5,012, secondo take profit 5,240, rendimento base anno del portafoglio è 33,8%, 5% di rendimento su 54 giorni, quindi tutto ok, il portafoglio sul forex invece è fermo, sta perdendo lo 0,9 o qualcosa del genere, quindi niente di particolare, senza inframe e senza lote, tanti saluti da Corinna che prima o poi scoprirete chi è. Grazie.